Ciao a tutti, sono Stefano Silvestri di Eurogamer.it e siamo appena usciti dalla demo di Dead Rising 4, un altro gioco con il 4 alla fine del proprio nome, così come Gears of War 4, insomma segno di una line-up di Microsoft che alla fine si affida sempre alle vecchie glorie, affanchiandole magari a qualche nuova entry come il record che abbiamo provato e del quale vi parleremo in un altro filmato. La formula di Dead Rising 4, questa volta c'è un cambio di protagonista che poi si ritorna all'originario Frank West, si ritorna a Willamette in Colorado nel periodo natalizio, quindi insomma con tutti gli addobbi del caso. La demo che abbiamo provato era a tempo, quindi potevamo andare in giro a fare quello che volevamo, ma è scaduto il timer, bisognava fermarsi. Da quello che abbiamo potuto vedere, quindi questa premessa era d'obbligo, la formula di Dead Rising 4 ci è sembrata uguale a quelle che abbiamo ammirato in passato, tolto per il fatto che non si è più in lotta contro il tempo, in che per esempio quanto mi riguarda è già un'ottima notizia, perché prima provavo una certa angoscia vedendo appunto il timer che scorreva incessantemente. Stavolta si può andare in giro appunto come si vuole, dove si vuole, e la formula propria vede sempre tante armi, delle fogge più strampalate, per fare fuori un numero di zombie spropositato, visto che gli sviluppatori ci sono fatti vanto di aver raddoppiato il numero degli zombie rispetto a Dead Rising 3. L'arma che avevamo a disposizione era una specie di balestra multidardo che lanciava dardi che poi esplodevano in delle nuvole viola, avevamo un'ascia elettrica, che oltre a chiaramente uccidere tonnellate di zombie per ogni colpo, poi si caricava e con la pressione dei tasti Y e B partiva una sorta di mossa speciale con una serie di fulmini che uccidevano tutti gli zombie nei paraggi. Abbiamo provato una spada di ghiaccio e poi chiaramente tutte le solite armi, assi di legno con dentro i chiodi, asce e insomma chi più ne ha più ne metta. Chiaramente c'erano ogni tanto dei personaggi dell'NPC che chiedevano aiuto perché erano circondati da degli zombie, noi dovevamo, entro un certo limite di tempo, stavolta il timer c'era, distruggere tutti gli zombie che avevamo nei dintorni. E un'altra cosa che abbiamo potuto provare e che ci è piaciuta molto è una specie di tuta meccanica con una sua alimentazione, per cui, come dire, finite le batterie bisogna uscire dalla tuta, con la quale si vanno in giro e si danno sostanzialmente cazzotti come se non ci fossero un domani a tutti gli zombie. E anche qui, a forza di colpire i nemici, la special qua è un sistema di smembramento tale per cui possiamo fare a pezzi a seconda di dove li prendiamo gli zombie. Qualora dovessimo utilizzare una delle armi che ho elencato prima, quindi le spade, le asce o qualunque cosa, usciremo automaticamente dalla tuta, quindi non si può avere sia la tuta meccanica che ci protegge e in più utilizzare anche delle armi. Per il resto è davvero tutto, sia perché la demo a tempo era abbastanza limitata, abbiamo giocato una decina di minuti, sia perché, lo ripeto, in quei dieci minuti abbiamo visto veramente molte similitudini con i capitoli precedenti. Con questo è tutto da Dead Rising 4 e restate sempre sintonizzati sulla nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube per tutti gli altri video che verranno nei prossimi giorni. Ciao a tutti!